Il Chieti perde l'imbattibilità interna, schiuma rabbia per la direzione arbitrale, continua a incassare la contestazione della curva Volpi, ancor più alimentata dalla sconfitta. Fanno festa i supporters termolesi che rinnovano il gemellaggio con quelli tiadini e si portano a casa tre punti fondamentali per iniziare alla grande il girone di ritorno dopo gli stenti della prima parte della stagione. Il tecnico di casa Ronci recupera Di Pietro e Prinari e nonostante il forfait di sgambato conferma il 3-4-3 posizionando Di Pietro nei tre di difesa con Rapino e Sbardella. Nel Termoli assenti Russi e Scarpone, il tecnico Casu al termine dell'ennesima roccambolesca settimana ripropone il 4-3 col tridente Ragazzu Santoro Di Matera. Al nono cambio subito obbligato per i padroni di casa, Del Grosso si ferma per un guaio alla coscia sinistra dentro Perfetti e Prinari dirottato sull'out destro. La partita però la fa il Termoli con le invenzioni di Di Matera e i movimenti sul filo dell'offside di Ragazzu. Al dodicesimo il centravanti non inquadra la porta da posizione decentrata. Sempre Ragazzu in corna a fil di palo, il corner di Romano. Al di là di giocare contro vento nel primo tempo il Chieti fa molta fatica. Di Matera chiama in causa Placidi da lontano ma al primo guizzo proprio i nero verdi passano. 29esimo punizione di Girone, il batti e ribatti in aria favorisce Maschio, Zampata da vicino e primo gol stagionale per l'esperto centrocampista. La reazione molisana è immediata. 31esimo Di Matera semina il panico, poi non arrivano al bersaglio grosso i tentativi di Felici e di Santoro. Clamoroso l'errore di Ragazzu un minuto dopo, vanificato a porta vuoto il perfetto assist di Santoro. Il Chieti torna a bussare al 38esimo dalle parti di Marco Nato col velenoso tiro cross di Girone ma al quarantesimo i padroni di casa restano in dieci. Sciocchezza Di Prinari che rifila una manata Di Matera a palla lontana. Forse il termolese accentua il contatto ma il secondo assistente di Tondo di Barletta vede il gesto, lo riferisce a Catucci di Foggia che estrae il rosso a Prinari. Ronci tiene le tre punte e passa la difesa a quattro ma il Chieti continua a soffrire all'inizio ripresa, Placidi interviene su Felici. Eppure i neroverdi avrebbero il colpo del K.O. al settimo, il solito Girone fa il vuoto, Broso devia, Marco Nato distinto si salva. Al decimo Ronci si copre con Navarro al posto di Orlando ma al quarto d'ora il termolo impatta. Placidi raccoglie con le mani il retropassaggio di Rapino, volontario o no? Punizione a due in area che Ragazzu sfrutta a mena dito riscattando l'eroraccio del primo tempo. Secondo gol per lui. Tornata la parità il termoli frena la sua spinta e il Chieti gestisce meglio la situazione ma il finale sarà Amaro. Trentatresimo Esposito va giù in area per Catucci di Foggia e simulazione del fantasista neroverde ed è giallo per lui. Al quarantesimo il momento chiave, contropiede termolese nato forse da un fallo di mano di Sorienello. Ragazzu finisce a terra in area di rigore, stavolta il penalty viene concesso, inutili le proteste teatine. Di Matera dagli 11 metri regala al termoli il sorpasso e il gol da tre punti. Nel finale concitato non accade nulla e il Chieti deve ingoiare il boccone Amaro. Peggio di così non poteva iniziare il girone di ritorno per il termoli. L'aria è cambiata, la rincorsa salvezza è lanciata. A questa partita non può essere commentata. Io se parlo di questa partita figlio sei mesi mi va bene. Non ti fa smettere di pensare che ha qualcosa di bello il calcio, deve essere un divertimento. Quando succedono queste cose io ringrazio anche i giocatori del termoli perché l'imbarazzo che c'era, molti li conosco, qualcuno si è allenato con noi per un po' di tempo. L'imbarazzo che hanno avuto questi ragazzi qua è allucinante. L'espulsione di primari, il rigore su esposito. Il rigore su esposito è giustissimo. Io un primari l'ho attaccato al muro per farti capire come stavo. Quindi l'espulsione di primari io la... Il rigore su esposito. Il rigore su esposito, il retropassaggio volontario là, fare entrata per cercare di anticipare l'attaccante, la palla va dietro, tu fischi... Cioè, tante piccole cose. Il mezzo rigore su vittorio, non me lo vuoi dare il rigore perché magari non me lo vuoi dare ma non l'ammonire. Cioè, vai, c'è stato il rigore che hanno dato a loro. Il ragazzo mi ha detto, abbiamo fatto petto contro petto, mi sono venuti i grammi, sono caduto. Ecco la spiegazione. Questa vittoria ci dà morale, ci dà continuità dopo la prestazione positiva con la Vispesa. Oggi ce ne vamo a fare risultato. Abbiamo lottato fino alla fine. Purtroppo, come spesso ci capita, al primo nostro errore veniamo puniti. Abbiamo sbagliato tre palegole al primo tempo. Però devo dire che i ragazzi hanno lottato fino alla fine. Penso che questa vittoria sia meritata.